E siamo giunti alla sesta corsa di Palermo, miglio di categoria F di scena i gentlemen, si va allo stacco, stacco che avviene in questo istante e che vede emergere molto bene operaio dei fiori nei confronti di Penterdeni che prova a togliere lo steccato a Ice Cube riuscendovi. Mentre c'è l'errore di Paulina Rivarco, dunque operaio dei fiori al comando nei confronti di Penterdeni in terza posizione con il numero 1 Ice Cube, può seguire con il 13 McLaren R che è ben filtrato dalla seconda fila guadagnando un discreto posto a steccato. Dunque prende vantaggio operaio dei fiori che sembra andare via di buona lena, andiamo adesso a vedere i primi 600 metri, addirittura 42,3 sul mio cronometro, quindi un'andatura davvero fuori misura per la categoria. Un gran vantaggio nei confronti di Penterdeni, al cui esterno c'è Pegasoz con il numero 14, altro cavallo partito bene dalla seconda fila ma adesso comincia a calare ed è Olimpico RS a farsi largo per linee esterne ed a lanciarsi in caccia di operaio dei fiori. L'operaio dei fiori che continua ad avere un buon margine e sta per raggiungere il primo chilometro, che viene raggiunto a media di 1,13 più o meno, quindi si è andato molto forte. L'operaio dei fiori resta al comando nei confronti di Olimpico RS che in pratica lo ha già raggiunto e che adesso probabilmente punterà al sorpasso. I due hanno guadagnato un buon margine sul resto dei concorrenti. Vediamo l'anario oggetto Igor Stravischi che cercano di farsi sotto. Nel frattempo ha spostato Rosolino Giudice con Olimpico RS e punta deciso sull'operaio dei fiori che comincia ad accusare la fatica. Passa Rosolino Giudice con Olimpico RS, il compagno di colori l'anario oggetto viene avanti, anche lui con molta grinta e sul traguardo. Non ci sono problemi per i due di scuderia, vince facilmente Olimpico RS con Rosolino Lo Giudice, quota di 5,13 nei confronti di l'anario oggetto numero 10, mentre un impetuoso operario dei fiori comunque porta a casa una discreta terza moneta. Dunque i numeri per la sesta di Palermo 12, 10, 6, l'ordine d'arrivo naturalmente ancora ufficioso. Grazie.